Ciao, qui è sempre Max di Unirotorologia con la mia preziosa assistente cipollina. In un video precedente vi ho fatto vedere in che modo i denari, il seme dei denari degli arcani minori, può essere ricollegato alle stelle. Andate a vedere il video, lo trovate anche in descrizione. Ora mi soffermo però su un altro particolare. Osservate i denari come sono disegnati nelle figure numerali degli arcani minori. Vedete, sembra di vedere dei fiori. O comunque questi petali o le forme di questo denaro al suo interno sono tutte arrotondate. Guardiamo invece cosa succede con le figure di corte sempre dei denari. Da forme arrotondate, rivolte all'interno potremmo dire, si passa invece a delle forme appuntite con questi raggi invece che vanno verso l'esterno. Ebbene, questo stesso particolare lo ritroviamo nel paggio, nella regina e nel cavallo, nel cavaliere. E quindi qual è l'idea? Che finché siamo in uno stadio ancora numerale, avviene una sorta di, come dire, il denaro è ancora in una fase passiva, ricettiva. I raggi sono rivolti all'interno. Quando invece il fante o il paggio, il valletto, inizia a raccogliere il frutto del denaro, ebbene questo diventa attivo. Le forme iniziano ad essere appuntite, quindi con un'energia che sembra sprigionarsi verso l'esterno. Lo stesso per la regina, vedete, per il cavaliere e per il re che adesso troviamo. Eccolo lì. Guardate la differenza. Forma passiva, arrotondata, forma attiva, direzionata con raggi verso l'esterno.